Oggi andiamo off camera con Luca Lobuono. Buongiorno Luca, ben arrivato. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Sappiamo che sei trafelato di borsa perché stai gestendo tutto in questi giorni e quindi ti vediamo in un'ambientazione più in movimento. Sì, vi chiedo scusa per questo, ma purtroppo nel tempo sono sempre di più. Sperciamolo prima che... In realtà è in autostrada che sprecciamolo. No, no. Allora, la prima domanda è una domanda che per noi è ricorrente e quindi volevo chiederti ma quando ti sei accorto che nella tua vita, grazie al lavoro che stai facendo, qualcosa era cambiato, che eri diventato riconoscibile? Diciamo, dopo il liceo sono stato dieci anni un po' in giro per il mondo, ho studiato economia a Londra e filosofia a Milano. Quando poi sono tornato a Bari, perché è sempre stata mia intenzione dare una mano ai miei genitori al lavoro, ho incominciato a sentire che c'era un qualcosina che mi mancava. Onestamente, non so se avete mai avuto la sensazione che dovete fare qualcosa ma non sapete cosa. E quindi ho incominciato a domandarmi per che cosa sono realmente portato, a prescindere dal lavoro che faccio per guadagnare soldi. Qual è la mia vocazione? Un po' come diceva Aristotele, eudamonia. La buona riuscita del tuo demone, no? scopri il motivo per cui sei al mondo. E lì ho cominciato a farmi le domande giuste, evidentemente. Ho capito che forse dovevo fare qualcosa a livello sociale e un qualcosa di creativo, perché io sono sempre stato abbastanza creativo come persona, ma non avevo, come vi ho anticipato, non avevo mai capito in che modo far sfociare questa mia creatività. Ecco, e poi mi ero, proprio diciamo due anni fa, mi ero appassionato a un ragazzo che faceva video emozionanti, io ho sempre amato i video emozionanti, mi svegliai il 4 gennaio con la mia fidanzata e le dissi, Alessia, credo di aver capito cosa devo fare. E le raccontai un po' l'idea qual era, ovvero quella di iniziare a fare dei video e trattare il tema della gentilezza, che personalmente mi ha sempre affascinato molto come, come, argomento, diciamo. E così un po' è nato il tutto, ecco. Allora, io ti racconto subito queste cose. La prima volta che ho visto i video sul tuo profilo, e ne ho visti tanti in sequenza, sono una ragazza, un pochista, e a un certo punto c'era una valle di lacrime. Le serne, davvero, perché i tuoi video, al di là, del contenuto, secondo me ti lasciano un interrogativo, a un certo punto. Cioè, tu li guardi e dici, ma effettivamente tutti potremmo trovarci in quella situazione. Come reagiremmo a quella situazione? Ecco, me ne accorgerei. La domanda che vi faccio sempre io, anche dopo che faccio i miei video, sapete qual è? Me ne sarei accorto. Posso dirvi sinceramente una cosa? No. Sì. Io per il tipo di persona che sono io, sono sempre estremamente attento. Tanto che sono sempre stato molto affascinato dal comportamento umano in generale, sia dei miei amici, sia delle persone che non conosci. Ma insomma, personalmente me ne sarei accorto. Però, almeno nelle situazioni che creo io, io me ne sarei accorto, ecco. Poi, nella mente è una riflessione interessante in realtà, perché io non lo so. Non lo so. Cioè, forse in certe situazioni sì, in altre no. Ovviamente può capitare di non essere distratti, ovviamente, in un determinato momento, ma su per giù, sono tutte situazioni estreme quelle che creo io. Cioè, insomma, le noti. Il tipo di situazione che creo è mirata ad essere notata. Quindi, mi piace pensare che me ne accorgerei, ecco. Ok. Io non lo so. Io rimango col dubbio, perché quando mi sono interrogato ho detto sai che non so se me ne sarei accorta. Boh. Però io ho una curiosità. Ora, tu ovviamente, quello che posti è il risultato positivo di quello che fai. Perché ovviamente tu posti sempre il lieto fine. Però tu ti metti anche in situazioni in cui, ad esempio, non so, magari non tutti hanno visto tutti i tuoi video, però tu ti metti fuori da un supermercato, dai una banconota da 50 euro a una persona, e gli dici, mi compri, io non ci vedo, ok? Sono in ragione, mi prendi una scatola di cioccolatini. Ti è mai capitato che non tornassero? Sì, mi è capitato. Abbiamo pubblicato i video e ce li hanno fatti togliere. Perché all'inizio, io, diciamo, quando ho iniziato, non è che non ero un content creator professionista, e non ero neanche... All'inizio pubblicavamo un po' tutto e quindi magari facevamo fare anche qualche brutta figura alle persone. Ed sono sempre successi i problemi. Io volevo semplicemente, inizialmente, raccontare proprio la realtà delle cose, come andavano. Però poi ti rendi conto che ovviamente quando tu fai video devi chiedere... Insomma, devi tutelare la persona che hai ripreso e non puoi mettere... Purtroppo non puoi pubblicare scene del genere, perché chiaramente le persone ti contattano e te le fanno togliere. E quindi ora... Ormai, sì, come hai detto tu, pubblico... Cerco di pubblicare la parte più bella delle persone. Cerco sempre di lasciare un messaggio positivo, anche se non vi nego, che mi piacerebbe descrivere e pubblicare realmente tutto quello che accade quando facciamo degli esperimenti sociali, perché credetemi, fa riflettere tanto. Ma ci sono alcune situazioni che non immagineresti mai. Cioè, abbiamo vissuto situazioni che non puoi raccontare a nessuno. Ma in proporzione, sono più gli esperimenti riusciti o i falliti? Sono riusciti, riusciti, riusciti. Ma questo è buono, dai. Ma ti è mai capitato che, diciamo, per esempio, nell'esperimento della vacanza non vedente, che qualcuno facesse, qualcuno facesse, diciamo, reagisse positivamente all'esperimento, che però si arrabbiasse a posteriori perché l'avevi, diciamo, tradito, l'ingannato. No, mai. È un'ottima domanda, perché anche io mi sono sempre... Spesso mi sono chiesto, ma chi stessi uno, perché non si arrabbia? Comunque qualcuno ci sta che se la prende, dice, però sai, magari scegli un altro tema, comunque mi hai preso in giro. Però poi, credo che alla fine, non so, quando capiscono il motivo, perché poi spiego sempre tutto quello che stiamo facendo, il motivo, cerco di spiegare tutto quello che faccio, restano tutti contenti. non c'è mai stato nessuno che se l'è presa. Ecco a me, ad esempio, mentre guardavo un video, mi è capitato di pensare, oddio, adesso si arrabbia tantissimo. Perché ad esempio c'era stato un signore, non mi ricordo adesso bene la circostanza, che comunque aveva anche lui un nipote, un figlio, un parente non vedente. E quindi, quando ha detto quella cosa lì, ho detto, oddio, adesso lui ci rimane manchissimo. E invece no. Il signor Nicola. Il signor Nicola. Che tra l'altro, è incredibile, che tra l'altro ho anche rincontrato un paio di settimane fa, proprio a quel supermercato. Sì. 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 Perché aveva detto, no, non lo farei mai, perché anche io. Sapete che mi sono fatto una capa di piante, mi sono emozionato anche io quando mi sono rivisto quel video dopo qualche giorno. È stata una bomba di emozioni. Quella persona, quel signore, è magico. Il signor Nicola è magico. Sì, sì. No, io faccio, cioè, veramente, adesso piano piano ci ho fatto il callo, però la prima volta che li ho visti ero veramente una valle di lacrime. Infatti poi sono tornata in ufficio il giorno dopo e lui e Simone gli ho detto, lui lo intervistiamo, perché io ho piaciuto con la fontana. Grazie. Però è vero, è stato superforte, devo dire. Cioè, la prima volta che li guardi non sapendo quello a cui sei andato incontro è veramente forte. Non te lo spero. davvero? Invece, diciamo, avendo tu, cioè, sfiorando tu un certo tipo di degrado, eccetera, situazioni invece pericolose per te? Sì, abbiamo fatto proprio il secondo mese che iniziò questo progetto l'anno scorso, ero ancora fidanzato con la mia ex collega, e facciamo insieme io e lei un video sulla violenza contro le donne. Durante quel video, io non l'ho messo chiaramente, un signore mi prese proprio dal collo, mi fece volare praticamente e mi spaventai da morire. Poi riuscimmo a finire il video perché mi ero reso conto che comunque stavo riuscendo. Ma quel signore, fortunatamente c'era gente, ma mi fece praticamente cadere per terra e mi tirò da dietro perché stavo ricreando una situazione in cui io strattonavo Alessia, la mia ex fidanzata. Quel giorno mi sono un pochino spaventato e un'altra volta anche abbiamo fatto un esperimento in cui una ragazzina piccola di undici anni andava a chiedere aiuto ad uno sconosciuto dicendo che un ragazzo la stava seguendo. Nel momento in cui io mi sono avvicinato c'erano dei ragazzi che hanno incominciato a guardare male fu un'altra situazione. Diciamo un paio di volte, un paio di volte mi sono preoccupato ma siamo riusciti a gestire la situazione. Perché immagino sia una frazione di secondo che succede. Sì, devi stare attento a tutto. All'inizio era anche peggio perché come vi ho detto inizia questo progetto con la mia ex fidanzata e lei era la mia cameraman che mi prendeva. Quindi io oltre a dover stare attento a tutta la situazione stavo attento pure a lei perché spesso le persone quando si sentono che le riprendi e si nervosiscono alcuni e insomma stavo attento a tutto però come vi anticipavo ecco all'inizio il motivo per il quale io mi renderei conto di tutto io sto sempre attento a tutto sto sempre un po' sul che va là quindi va tutto bene. senti immagino che diciamo nell'ambito dei tuoi follower che ti segue ci sia diciamo una distanza più ravvicinata verso te nel senso che visto il lavoro che fai si sentano più vicini e magari che si diciamo abbiano nei tuoi confronti un atteggiamento molto più intimo no? come riesci a diciamo a mantenere un po' la privacy la distanza? Allora devo essere sincero io non sono proprio sono all'inizio di questa esperienza non è non mi sono mai domandato se mantenermi distanza magari non parlo ecco magari delle faccende familiari non so però cerco di essere più o meno il più trasparente possibile non c'è qualcosa che non ho detto per il momento ho parlato del mio lavoro tipo nelle storie ogni tanto non ho parlato di una mia grande passione ovvero quello che sto lavorando proprio in questo momento posso dirlo io sono mi piace scrivere poesie questo è spoiler questo è spoiler mi piace scrivere poesie da tanto queste poesie stanno per diventare delle canzoni o per meglio dire stiamo iniziando a lavorare un progetto musicale che mi piacerebbe tanto realizzare tanto e quindi bello spoiler esclusivo ecco perché ecco pensa guarda perché stavo riflettendo sulla domanda non c'è qualcosa nella mia vita che voglio tenere nascosto mi sento quando ho iniziato questo progetto mi sono messo me le sono fatte queste domande mi sento abbastanza tranquillo su tutto magari non parlo dei miei genitori o dei miei fratelli per ovvi motivi però parlerei nel senso del mio percorso io sono laureato in filosofia una scelta molto strana per tutti ma non mi cioè oggi a 32 anni sapete di che cosa mi sono reso conto che tutte le scelte anche più strane che ho preso nella mia vita stanno incominciando ad avere un significato e sembrano frasi fatte ma non lo è assolutamente spero che con i fatti riuscirò a dimostrarlo molto molto bello e senti io ho un'altra curiosità un altro tipo di video che tu fai è quello di andare a portare insomma qualcosa spesso è da mangiare oppure dei fiori ai senza tetto oppure alle persone che lavorano in cantiere tu arrivi nei negozi e chiedi 500 ruote di scaccia oppure 500 ruote del gesto fiorale la faccia delle persone che sono dietro al balcone è sempre epica è bellissimo è bellissimo è bellissimo è sorpresa quindi c'è proprio tv verità quella lì sì 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 guarda io ho sempre pensato le persone che lavorano nei locali fanno il posto perché tu puoi vendere le cose più buone puoi preparare le cose più buone non so ma se il tuo personale non è gentile non si sa comportare tu non ci torni più in quel posto quindi secondo me il personale fa il posto no no le effetti sono incredibili perché all'inizio è sempre quasi sempre no non ce la farò mai è una quantità fuori da ogni logica poi però alla fine trovano comunque sempre l'escamotage la via di mezzo per accontentarti sì perché io gli dico il massimo che hai così non si sentono più in difficoltà perché magari la domanda iniziale ti mette un po' in difficoltà poi diciamo il massimo decidi tu è carino questo ma io questo video l'ho provato per la prima volta due settimane fa ok è bellissimo sì sono divertiti poi sono sempre tutti contenti perché non se l'aspettano è sempre una sorpresa un po' per tutti secondo me è una tematica cioè anche per te che sei il creator in questo caso non credo sia facile come? scusate per te che sei il creator non credo sia facile cercare di portare sempre contenuti nuovi su questo tema cioè tu comunque spazi parecchio perché hai non so sei passato dalla banconota lasciata per terra con la scritta ma prendi solo se ne hai bisogno insomma una cosa del genere all'esperimento con il ragazzo non vedente quindi comunque non è facile anche cercare di essere sempre e posso dire sono contentissimo che tu l'abbia notata e che tu sei la prima persona che evidenza questo aspetto perché questa fu una scelta cioè praticamente più o meno è stata una scelta tanto tempo fa quella di cercare di uscire costantemente con format se si possono chiamare così o mini format nuovi perché non ti annoi mai perché non ti abitui mai invece io che sono sempre stato appassionato magari anche ad altri ragazzi ad altre pagine a un certo punto è difficile non essere ripetitivo quindi l'unica soluzione è quella che vabbè è diciamo questo modo che io ho pensato di affrontare questo modo che ho pensato crei anche il risultato opposto cioè dopo un po' che non vedi uno dei tuoi esperimenti dici ma non lo fa più e quindi tu cioè capito inneschi il ragionamento opposto questo non l'avevo pensato questo aspetto non l'avevo pensato no in realtà si perché cioè è quel punto in cui ti affezioni comunque ha un format tra virgolette però poi dopo un po' che non lo vedi perché c'è roba nuova hai voglia di rivedere quello là e quindi alla fine secondo me è carino però non è facile allo stesso tempo perché comunque hai un corbice di situazioni relativamente limitata ecco nel senso sì sì non è semplice perché devi essere cioè non purtroppo con i social devi essere molto diciamo aggressivo nelle pubblicazioni non ti puoi permettere nel senso di stare due mesi senza pubblicare comunque è questo è una cosa che per cui è un aspetto che non mi piace tantissimo però è il rovescio della medaglia devi essere presente devi essere presente se c'è qualcosa che vuoi comunicare se c'è un messaggio che vuoi comunicare non lo devi fare solo quando pare piace a te che ti svegli una mattina e lo fai se sei preso un impegno lo fai e quindi ogni settimana io devo pubblicare un tot numero magari di storie voglio cercare di essere presente anche perché poi per il tipo di anche per il tipo di tema secondo me che tratto io quindi sì non è facile ogni tanto vai in affanno però al posto di diminuire aumentano i progetti le cose però ci sono tante cose veramente ci sono tantissime idee e io sono super felice dei progetti che sto portando avanti ci sto mettendo anima e cuore guarda sto sudando senti torniamo alle brioche noi abbiamo visto abbiamo analizzato diciamo la parte di quando tu vai a comprare le brioche no? sì mi piacerebbe capire con te invece quando tu poi le porti a come si chiama ai senza tetto eccetera che immagino che al di là di quello che riprendi poi una volta chiusa la videocamera ci sia questo rapporto con queste persone che sono sfortunati e che quindi quella sia la parte più importante riesci a smetterci un po' di emozioni che raccogli io vi dirò una cosa folle ci sono alcune persone che lo fanno per scelta io conosco un paio di persone tra cui Abi un ragazzo con cui fece un video che lui ha scelto di vivere così non vuole avere bene non gli interessa niente a lui piace quella vita e si prendono tutti cura di tutti credetemi non c'è stato neanche un attimo io non ho mai avvertito neanche un briciolo di malinità tra di loro mentre si parlavano mentre mangiavano insieme o mentre passavano del tempo insieme è incredibile la qualità di rapporto che c'è tra persone che non hanno niente in termini di beni materiali anche quelli sono scelte c'è a chi piacciono i beni materiali a chi non piacciono però quello che ci deve differenziare come persone è il modo in cui ci comportiamo l'un l'altro secondo me sono proprio i rapporti è quello che fai che ti definisce per quello che sei nel senso come ti comporti verso gli altri secondo me che fa la differenza poi ognuno vivesse come vuole però che ci sia rispetto che ci sia un senso di protezione ecco proprio due giorni fa ho pubblicato una frase che fa così ci siamo solo noi su questa terra proteggiamoci cioè paradossalmente ci siamo solo noi su questa terra tutte queste guerre cioè ora non voglio aprire dibattiti però nel senso la lascio così semplice penso questo ci siamo solo noi su questa terra potremmo vivere potremmo convivere tutti quanti molto meglio di come facciamo adesso io questo penso tra l'altro il video con Abile è quello che mi aveva fatto piangere te lo ricordi? sì 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 è allucinante mamma mia se ci ripenso no però sai cosa mi ha fatto riflettere questa cosa che alla fine abbiamo nominato Nicola prima abbiamo nominato Abby adesso i protagonisti dei tuoi i co-protagonisti insieme a te dei tuoi video loro malgrado tra l'altro perché all'inizio non lo sanno di essere dei protagonisti di un video poi alla fine diventano degli amici tra virgolette nel senso che nominandoli proprio per nome diventano delle persone vicine quasi no perché li ricordi proprio per nome cioè io ricordo i protagonisti dei tuoi video che è anche questa cosa incredibile perché sono degli sconosciuti alla fine però per cui i 30 secondi 60 secondi del video rimangono rimangono impressi in chi li guarda è una cosa bellissima ci sto pensando adesso è bello che lo dici è una bella cosa anche perché vedi sul mio profilo adesso me lo butto lì ho scritto cerco persone gentili in giro per il mondo cerco persone stupende in giro per il mondo tutte le volte vedi che tu adesso hai detto mi ricordo di queste persone ma sai forse proprio perché perché sono persone speciali e lo dico veramente non perché sono i miei video ma perché se tu hai non lo so l'occhio di notare una persona in difficoltà decidi di dedicare del tempo a quella persona per aiutarlo sai se non quando non sei indifferente le persone non indifferenti sono tutte persone comunque che ti restano impresse e riesco la cosa bella di questi esperimenti è che vai a cercare a trovare proprio quel tipo di persona perché sicuro una persona meno sensibile non si ferma o non si vede un mio video sicuro io lo so quindi è un contenitore di belle persone sì e io ho un'ultimissima curiosità c'è qualcuno che ti ha mai beccato perché ti ha detto no no ma io lo so che sei tu sì adesso sì ogni tanto ora ogni tanto sì ultimamente sì qualcuno è il rovescio della memoria della fama alla fine e devo andarmene da Bari che a Bari siamo pochi dovresti cambiare piazza sì senti ma io invece ho questa ultima curiosità ma che ti circonda genitori parenti amici no sono piacevolmente coinvolti in questa tua avventura o all'inizio aveva delle titubanze e allora onestamente è stato un fulmine a ciel sereno per tutti perché io sì sono sempre stato un po' particolare come persona però nessuno si aspettava un progetto come quello che sto portando avanti sui social o questi altri due progetti a cui sto lavorando perché non ho mai avuto io il coraggio di prendere seriamente queste mie passioni non ho mai preso seriamente il fatto che magari saranno dieci anni che al posto di tornare a casa e giocare alla playstation o guardarmi un film mi metto lì e scrivo l'ho sempre tenuto un po' represso questo mio lato e nel momento in cui mi sono confrontato con la vita reale cioè casa lavoro lavoro casa casa lavoro lavoro casa io mi sono detto io non voglio morire senza aver mai provato a registrare una canzone non voglio morire senza mai aver fatto altre cose perché alla fine alla fine la vita si riduce a questo ecco io dico penso che la vita sia un dono e l'unico modo di dire grazie alla vita è cercare il motivo per cui sei al mondo cioè cercare con insistenza quello per cui tu sei portato cioè la tua missione di vita e io ho sempre pensato che questo si potesse fare parallelamente alla tua vita lavorativa o a quello che devi fare per mangiare per andare avanti una famiglia oggi oggi io mi sono ricreduto e sinceramente le voglio mixare tutte queste cose io lavoro esco faccio video torno a casa scrivo libri scrivo cose nel senso canzoni eccetera io voglio vivere così voglio fare tutte le cose che mi viene in mente di fare e soprattutto ok adesso non voglio questa frase pericolosa perché potrebbe indurre all'anarchia quando noi ci sentiamo portati per qualcosa non dobbiamo far finta di niente ecco credo che questo sia e noi seguiamo a pieno questo tuo consiglio e ti auguriamo meglio ovviamente ti ringraziamo per essere stato con noi ti ringrazio io voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti